Sì, stessa! Sì, stessa dirà per essere francese, ci ha ripreso tutti i nostri versi, no perché, ragazzi ma è sempre accesa, andiamo, attenzione questa bellezza mediterranea, mira, 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 mira e sta qui guidigno con los compañeros del meridione, eccoli qua, guarda che meraviglia, bellezza meridionale, guarda che meraviglia, tolta su le manine, su i bandà, salutate, ciao, viva i parranda, guarda quante belle donne, guarda quanti fricchettoni, vada quanta passera, viva le donne, oddio, chissà parranda, chissà parranda e parranda sono un gruppo di fricchettoni della Val Velsas, ora parliamo con il direttore de los fricchettoni, attenzione, Che cos'è di preciso parranda? Sì, ma non è che ci devi parlare Stai zitta, chissà parranda è un movimento socio-culturale nato nei primi anni Sessanta che si è sviluppato successivamente in epoche differenti, seguendo delle correnti di pensieri filosofiche che si sono alternate via via nei secoli e quindi diciamo che è una cosa che ha circa due o tre millenni di storia e che si tramanda di generazione in generazione oralmente. Questo è ciò che è parranda, abbiamo sentito una piccola descrizione di parranda dove è nata l'origine di questo gruppo di persone che tendono a portare avanti questo movimento socio-culturale e che speriamo duri negli anni perché anche ai posthumi, ai posthumi, poi ovviamente in parranda ci sono anche degli elementi che sarebbe bene che non ci siano, tipo questo elemento femminile, questo vedete, questa fricchettona qui, vedete, sarebbero amici. Sì, capisce quanto uno capisce poco, ma inquadra, inquadra, sì, sta inquadrando e noi speriamo che parranda continui fino all'infinito perché comprendo, continui in questa... Guarda in camera Pino, però se non guardi in camera... Sto guardando ma non so, noi speriamo che parranda continui in questo suo percorso socio-culturale... La fai spegnere... Dai, per favore, scelta in camera, dai... Ok... Passala... See you later, ok, ok, stacca, stacca, stacca...